sono due grandi ragazzi è stato un piacere non mollate mai dove ciacchi sono andati adesso? giù, su che pententi sono passati di lì? immaginavo, il palazzo è sempre per ultimo grazie mille, buona serata ciao grazie mille 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 questo mi sa che diceva che dovevamo tagliare la pianta qua grazie mille grazie mille grazie mille time Grazie